ciao a tutti ben ritrovati oggi faremo un po di pasta con gli spinaci questa è una busta intera di spinaci sto facendo la nostra meccanica 32 vedi quanto è voluminoso adesso con questo sistema che con il san pietro possiamo chiudere bene e fare appassire i nostri spinaci facciamo fiamma alta finché non esce il vapore e poi abbassiamo la fiamma è molto molto veloce vedrete fra un po per facilitare un po di più la cottura metterò un po di acqua mezzo bicchiere perché non ho lavato le spinaci se non poteva essere senza acqua completamente vedete che dopo due minuti sul fuoco abbassiamo e guardate come è già appassito adesso metterò un po di sale due spicchi d'aglio e mescolerò spegniamo la fiamma i nostri spinaci sono completamente cotti adesso metterò la pasta io farò la pasta con gli spinaci ho messo 240 di pasta metterò tre bicchiere perché sempre è la pasta rumo e dunque ci vuole più tempo e ci vuole a questo punto più acqua lo metto tutto perché poi posso aggiungere sempre alziamo la fiamma finché non esce il calore e il vapore e poi abbassiamo al minimo trascorse i minuti della pasta ho spento tutto e questo è il risultato adesso impiatterò e mangeremo buon appetito